Io invece Francesco voglio spaccare tutti questi discorsi, romperli, perché c'avevo un vecchissimo pero, adesso probabilmente mi emozionerò anche, vabbè, l'importanza sopporteranno. Noi qualche anno fa, e io l'ho messo nel crogiolo dello stregone in quattro canti del mondo, ci fu un episodio, un episodio è successo a Mosca, in pratica si sono accorti che un gruppo di cani aveva adottato un bambino di tre anni, e questo bambino di tre anni andava via con i cani, andava a rubare cibo, le immondizie, cioè praticamente era stato adottato, faceva parte di questo branco di cani. E questo episodio, che in effetti fu anche abbastanza complicato, riprendere il bambino e portarlo in orfanotrofio, ci fu una vera e propria caccia al branco di cani, perché i cani difesero fino all'ultimo, diciamo così, bambino. Ebbene, tanto per capire come si può crescere con i cani, anziché con i monoteisti, tanto per avere la dignità di ciò che è un Dio nel mondo che ci circonda, e ciò che invece è la distruzione dell'uomo, cioè la distruzione degli individui, io adesso, siccome il giorno 18 febbraio 2004 è venuta fuori ancora la notizia di questo bambino, cioè cosa è successo dopo a questo bambino? Bene, io adesso vi leggerò la notizia. Russia, il bimbo cane è allevato dal branco. Vanya Misulkov è stato salvato e allevato da un branco di cani, gettato in un bidone delle immondizie e quando aveva tre anni ha imparato ad abbaiare, a mordere, a rubare i rifiuti per il branco, la sua famiglia. Per due anni si è trasformato in cane, vivendo nei cortili o nei tombini, quando la polizia di Reutov, una città sottomosca, ha cercato di riportarlo nel mondo degli uomini per affidarlo ad un orfanotrofio, Vanya e il suo branco randaggio hanno aggredito gli agenti. Ci sono voluti idranti per isolare Vanya e portarlo in istituto. Orfano per la seconda volta a cinque anni non sapeva parlare, non era abituato ad una casa, non si era mai lavato in un bagno. La sua vita è cambiata grazie a Tatiana Babanina. Ora il piccolo ha undici anni, ha superato la selezione per una delle scuole più esclusive del paese, l'Accademia Militare di Kronstadt. Il governo pagherà per lui la retanuale. Questa è una notizia che già avevamo dato in cui dimostra che effettivamente gli animali hanno una sensibilità maggiore. Ma io voglio aggiungere a questa sensibilità che hanno avuto questo gruppo di cani nei confronti appunto di questo bambino che l'hanno fatto allevare. Noi ricordavamo prima il caso della madre che accoltà la figlia e la mette in grave condizioni che soffre in molti casi. E c'è un'altra notizia che va in questo senso. e nurse in inglese significa asili. Dice nurse gestite da sorelle. Le realizzano i serpenti assonali che stando ai risultati delle ricerche effettuate nell'accordo dell'Università di Nusa dimostrano che in questo modo di avere un altro livello di socialità. Le femmine quando sono gravide tendono infatti a riunirsi in gruppi formati ad esempio tra loro imparentati che si prendono cura anche dei piccoli una volta nati. Segno questo secondo il biologo americano che questi serpenti sono in grado di riconoscire il loro livello di parentela. Noi abbiamo che il cristianesimo porta una donna a non riconoscere neanche di più sua figlia e la porta in chiesa per purificarla e la coltella senza problemi come hanno fatto purtroppo nella nostra storia migliaia di donne. Abbiamo questo caso in cui i genitori buttano nella spazzatura un bambino e se ne prendono cura i cani e poi ci viene a raccontare che i serpenti mi sembra che Adamo ed Eva c'era il serpente. Chissà perché il serpente è il simbolo della vita nelle altre religioni, cioè in tutte le antiche religioni. Adesso scopriamo dopo due mila anni di monoteismo che ci ha detto il serpente tentatore che i serpenti assonali fanno gli asili. In Italia si pensa dagli asili alle strutture religiose. Chissà perché in mercurio c'è il caduceo con due serpenti. Chissà perché i medici hanno due serpenti ancora oggi e anche i farmacisti hanno il serpente sul caduceo. Quello che mi interessava però mettere in luce della storia del cane è che non hanno distrutto la struttura emozionale del bambino, la sua intelligenza e il suo modo di affrontare. Cioè non l'hanno piegato alle esigenze di essere cani, ma lo hanno preso per ciò che era. Naturalmente gli hanno dato ciò che avevano, questo indubbiamente. Però non ne hanno distrutto l'intelligenza, non ne hanno distrutto la capacità di affrontare il mondo. Quando il bambino è tornato nel mondo degli uomini, aveva la sua struttura psichica, la sua struttura emozionale, la sua capacità di vedere il mondo è chiaramente a posto. Cioè è tanto a posto da poter superare degli esami e entrare in accademia. D'altronde, se noi pensiamo soltanto al mito della fondazione di Roma, penso che il mito questo ce l'ha sempre offerto, ce l'ha sempre prospettato. Nessuno ha mai sottovalutato Roma, i suoi fondatori, perché furono stati abbandonati, raccolti da una lupa, furono allattati e portarono a questo impero. Questo non incise sulla loro capacità, sulla loro grandezza, sulla loro abilità. Non incise neanche sull'origine della città. Se noi pensiamo che d'altra parte abbiamo la furia del monoteismo, che è sempre legato alle discendenze, che bisogna discendere dallo Dio tramite lo Spirito Santo, altrimenti non sai niente, in realtà gli antichi romani hanno come fondatori due gemelli abbandonati, raccolti da una lupa e allattati. E questo non è l'unico esempio che possiamo avere nella mitologia. Questo significa che quello che è importante è la capacità delle persone, degli individui, delle comunità anche di accogliere queste persone, perché nessuno si è allontanato da Roma perché i fondatori erano degli abbandonati. E' importantissimo l'atteggiamento che noi come pagani politeisti abbiamo nei confronti del mondo. Ed è importantissimo che noi riusciamo, per quanto pochi, cogliere i segnali che dal mondo ci arrivano a noi. Se noi non siamo in grado di fare questo non siamo nemmeno pagani politeisti. Cioè il paganesimo ha questa peculiarità rispetto a tutte le regioni monoteiste. Cioè l'individuo pagano politeista si considera divenuto insieme a tutta la natura. La natura ha le caratteristiche di riprodurre quelle strutture, anche genetiche se vogliamo, quelle strutture che funzionano. Per cui lei le può riprodurre negli uomini, negli animali, nei virus, le riproduce nelle piante, naturalmente con tutti gli adattamenti e con tutte le variazioni. Pertanto la nostra struttura, chiamiamola genetica, visto che possiamo sfruttare la scienza, no? La nostra struttura genetica è uguale a quella degli animali, è uguale a quella delle piante. E da qui noi non possiamo prescindere dal fatto che tutte le tensioni di vita, cioè tutte le pulsioni che hanno le piante, che hanno gli animali, che hanno gli uomini, non siano della stessa natura. Cioè in pratica gli dei, il luminoso, il lumen all'interno di tutti gli oggetti che esistono, è comune, cioè sente la sintonia l'uno dell'altro. Cioè la presenza di Apollo, la presenza di Artemide, la presenza di Diana, la presenza di Afrodite, la presenza di Zeus, è in tutti gli esseri esistenti. E si manifesta uguale creando delle sintonie, creando delle empatie, creando delle vibrazioni, come un sentire comune. Per questo noi pagani non possiamo essere come i monoteisti che dicono questo sì perché è creato da Dio, quello no perché è roba mia. Cioè non possiamo vedere il mondo in questo modo. E chiaramente le nostre emozioni, le nostre tensioni, sono tensioni di armonia col mondo. Chiaramente qualcuno è colpito più da certe cose, altri sono colpiti da altre cose, qualcuno ha una certa visione, altri ne hanno altre. Però è sempre questa relazione dinamica col mondo che noi viviamo e questa relazione continua di molto scambio di energia, di emozioni, di tensioni, di passioni. Pertanto noi viviamo il mondo, viviamo le passioni del mondo. E questo non può essere per un monoteista che si sente il padrone del mondo. Il padrone ha disprezzo per ciò che ha sotto. Cioè lo ama soltanto alla misura in cui lo serve. Se mi servi ti amo, dice il padrone al suo servo. Noi invece non possiamo avere questo atteggiamento. Certo, sappiamo benissimo la differenza che c'è fra un uomo e una donna. Anche se diciamo che l'uomo e la donna hanno esattamente le stesse tensioni e le stesse fusioni. Conosciamo la differenza, non siamo idioti. Però, come conosciamo la differenza fra un uomo e un cane, fra un albero e un maiale, un virus, un battere. Però ciò che spinge tutto e ciò che hanno dentro in comune tutte le forze della trasformazione sono forze comuni. E con queste forze noi costruiamo il nostro camminare assieme. Anche con la gamba di insalata che mi sono mangiato oggi. Cioè, questa è la relazione che noi come pagani non possiamo prescindere da questo. Sì, ma infatti appunto quello che non dobbiamo sempre comprendere è che per noi è scontato e acquisito ed è normale che noi siamo sempre dentro e all'interno del mondo. Cioè nel senso che non possiamo mai pensare di essere estranei a questa realtà. Noi siamo sempre all'interno del flusso della vita. Siamo sempre all'interno di questo meccanismo, di questo movimento, di questa trasformazione. Ma noi non possiamo mai estranearsi. Non possiamo mai tirarci fuori. Non possiamo mai tirarci sopra o di lato. Perché noi siamo sempre all'interno. Il monoteismo purtroppo tende a isolare, tende a dire tu sei fuori dalla realtà in realtà. Fuori dalla realtà non si può essere. Fuori dal flusso della vita non si può essere. Ma il punto è il monoteismo concentrando sul fatto delle straneità della persona rispetto al mondo. D'altronde il monoteismo insegna le persone a dire la tua vita è insignificante in quanto è finalizzata al giudizio universale e là al di là. Ma questo è sempre un tentativo fasullo di rendere anestetico il rapporto con l'esistenza. Ma l'esistenza non può essere sfuggita, non può essere allontanata. La nostra vita non può essere osservata, può solo essere vissuta. E ora appunto il fatto anche di porre come fa il monoteismo sempre l'acceno sul peccato, sul stare attenti, è sempre un tentativo di limitare la possibilità delle persone di agire e di comprendere. E quello che dobbiamo comprendere è che se noi siamo all'interno del mondo, all'interno del mondo ci sono anche altre realtà che vivono con noi, che combattono con noi, che vengono a incontrarsi e a scontrarsi con noi. E questo lo dobbiamo comprendere. Cioè noi dobbiamo mai pensarci di essere i detentori del potere o i creatori del mondo. Ma noi siamo delle persone che vivono all'interno del mondo con altre persone. E queste persone hanno delle confronti di noi, l'amicizia o la cattiveria. Hanno un buon rapporto e un cattivo rapporto. Ma noi non abbiamo il potere assoluto su nessuno. Noi abbiamo il potere sulla nostra esistenza, sulla nostra vita. E soprattutto abbiamo un potere enorme che è come vogliamo indirizzare la nostra esistenza. Se noi pensiamo di essere sempre le persone elette perché hanno una visione religiosa monoteistica che insegna che esista un Dio creatore, saremo sempre delle persone incapaci e impossibilitate nell'affrontare gli altri perché ci ritreremo più bravi nell'essere in contatto con questa realtà. Che questa realtà poi non esiste, è una finzione, è un fantasma, è una proiezione, è una menzogna della nostra mente, della nostra cultura o di qualcuno. Però questa menzogna, il monoteismo, impedisce a vivere. E se noi ci cominciamo a rendere conto che siamo all'interno di una realtà molteplice in cui ci sono molte idee, molte divinità, molte energie, dobbiamo imparare anche ad entrare in contatto. Dovremmo sviluppare maggiormente la nostra capacità di attenzione, di percezione, di osservazione. Ed è questa proprio la visione antitetica che ha il politeismo rispetto al monoteismo. Perché non è la necessità di conoscere un decalogo, di conoscere uno schematismo, di avere un ricordo di una predicazione. Ma è la capacità costante, quotidiana, in ogni momento delle persone, di essere in contatto con la vita e di essere attenti a quello che è lì attorno. E d'altronde, torniamo a fare una cosa concreta. Abbiamo avuto due esempi in cui, nel regno animale, esistono dei rapporti di solidarietà, di vicinanza, di interesse, di capacità di interagire con gli esseri umani. E dall'altra parte abbiamo persone che hanno accettato la visione monoteistica e fanno i preti pedofili o fanno i genitori che sgozzano i figli. D'altronde, come vedete, l'accettare certi principi porta a certe conseguenze. E più noi accettiamo i principi del monoteismo, più faremo danno non solo agli altri ma a noi stessi. E questo, soprattutto, può andare bene se il monoteismo fosse ristretto al singolo. Purtroppo il monoteista ha la necessità vitale, fondamentale e religiosa di rompere le scatole degli altri, diciamola così, di convertire gli altri, di salvare gli altri, di purificare gli altri. Quella madre non ha avuto l'assilo di dire sono una madre capace di aiutare mia figlia. No, ho il bisogno di purificare mia figlia per salvare il mondo, per portare il mondo alla pace. Ma non si uccidono le persone e si porta alla pace. Si cambiano la realtà essendo capaci di cambiarla. Quel prete pedofilo cosa ha fatto per non essere pedofilo? Ha chiesto al comune che li portassero via le banchine davanti alla chiesa così non vedeva i bambini. Ma non è certo così che si risolve il problema perché dopo qua non aveva sempre qualcuno a disposizione. E cosa hanno fatto le persone? E cosa hanno fatto gli altri tre paloci di quella parrocchia anziché denunciarlo? Diciamocelo chiaro, non è possibile che gli altri tre non sapessero dal mio punto di vista. E quando gli avanti dico sono cinque anni che aspettiamo cosa attendono il Messia che li salvi? Esatto, cosa sapevano in paese e non veniva detto o non veniva fatto? E i carabinieri del paese quanti occhi hanno chiuso prima che ciò scattasse? E le domande sono tante che c'è da possi e sono tutte domande legittime. E cosa sta succedendo adesso in decine e decine di altre parrocchie? Questa è la domanda. E quando domani troveremo il ragazzo che ammazza la madre e la madre ammazza il ragazzo o viceversa? Quanta è la responsabilità delle istituzioni per non aver indagato su ciò che avviene nelle parrocchie in questo momento, in questo preciso istante? Questa è un'altra domanda. Sì, perché l'attività delle parrocchie non è che si è fermata. Ha sedimentato, ha creato un qualcosa, ha creato un subostrato consistente, ha creato una certa condizione ma continua a ripeterla. E finché noi non fermeremo questo tipo di attività di monoteisti avremo sempre tragedie del genere. Soprattutto una cosa che sarà interessante è il fatto che le televisioni cominciano ad occuparsi del caso dei paesi dei pedofili. Significa che qualcosa sta per emergere. Sta crollando, c'è il muro di silenzio che hanno alzato, prima o dopo viene a crollare Francesco perché è eccessivo, capisci? Io mi ricordo quando ho messo su quel pezzo che commentavo con la proposta di legge contro i satanisti e ho fatto quell'elenco di crimini fatti dei preti pedofili, effettivamente quando l'ho mandato a tutti i deputati penso che abbia colpito molto. Adesso purtroppo si potrebbe allungare di molto. Ci sto già pensando Francesco, ci sto già pensando di riprendermi gli ultimi 20 casi di preti pedofili e mettere come aggiunta a quell'elenco. Perché effettivamente è di una cosa atroce. Anche perché a un certo punto uno gli scocci anche a un certo punto andrà in giro a dire, ve l'avevo detto. Perché è pesante, io qui ho anche delle informazioni adesso di altri dettagli stampa che non faremo chiaramente, in cui si dice che c'è casi depressione, sia la madre che è ansiosa che passa l'ansia al figlio che nasce per cui le crea già delle turbe eccetera. E avevo detto, non ha vita a niente queste cose, da inizio della trasmissione ne abbiamo attonellate. Per cui a un certo punto anche continuare a dire, avevamo ragione, avevamo ragione, avevamo ragione, ci si stufa anche, no? Perché sembra quasi di parlare al vento e come se le persone che ti ascoltano aspettassero il prossimo dramma per dire, ah sì in effetti aveva ragione, può darsi che avesse ragione. Cioè abbiamo una feccia che sta girando per Italia, che si chiamano preti esorcisti, cazzo, che sembra che la magistratura non sia in grado di fermarli. Cioè abbiamo questa banda di criminali che vanno farneticando sul demonio, questi miserabili, e sembra che i magistrati non siano in grado di fermarli. Non siano in grado di fermare la loro attività di devastazione istituzionale. Mi sembra veramente allucinante la faccenda, cioè, non so, io capisco che ci sono interessi, che alcuni magistrati magari guardano con simpatia a queste cose, in fondo a qualcuno gli piace pure, ci siano tutta una serie di carabinieri, poliziotti che magari sono cristiani, allora tendono a non vedere oppure a passar sopra emozionalmente certe cose, non volontariamente, ma proprio perché... Possono fare dei bei romanzi, vendere 45 mila copie in poche settimane. Ecco, esatto, cioè, roba di sto genere. Cioè, noi sappiamo purtroppo, questa è la realtà del nostro territorio con cui dobbiamo scontrarci, però è scocciante dire al prossimo dramma, ve l'avevo detto, effettivamente è drammatico, anche perché il dolore pesa, non è così semplice. Sì, no, anche perché noi, come pagani, non abbiamo bisogno delle conferme di questi fatti, perché per noi pagani comprendere l'atrocità del monotismo è, più che abbastanza, leggersi i loro testi sacri, i loro libri sacri, i loro comandamenti. D'altronde, il fatto dei preti e dei pedofili per noi non era da meravigliarsi. Avendo letto con attenzione quello che dice la Bibbia, l'insegnamento di Gesù Cristo, perché ricordiamo che i preti e i pedofili lo fanno ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo, lo fanno su sue indicazioni, su suo modello, e loro ripetono l'attività pedofili di Gesù Cristo, e noi, leggendo solo la Bibbia, sapevamo che quelle affermazioni, quei principi portavano a quello, cioè di conseguenza... Bastava anche leggere un po' di storia del cristianesimo, anche se, ricordo che la storia criminale del cristianesimo è uscita nel quinto volume, però su storia criminale del cristianesimo io sono convinto che tutta quella che è l'attività di pederastia dei preti non ci sarà, perché le caratteristiche di quel libro sono caratteristiche di ordine anticlericale, non sono caratteristiche di ordine emozionale, magico, religioso, per cui tutta una serie di cose verranno trasciate. Pertanto, là nella storia criminale del cristianesimo c'è una quantità di crimini, una qualità di crimini, ma in realtà esiste una qualità di crimini infinitamente più alta è che neanche Dresler, che ha scritto storia criminale del cristianesimo, ha pensato di infilarci dentro, o forse magari ce lo infilerà in passato. Sì, ma anche perché c'è un discorso, cioè che Dresler con la storia criminale del cristianesimo fa un lavoro enorme, però la sua concentrazione è sui grandi massacri, ma ogni giorno c'è l'insegnamento continuo, poi in moltissime famiglie c'è l'attività dei principi cristiani che vengono applicati, e quelle sono cose che non fanno storie. Esatto. Francesco, faccio un piccolo pezzo dell'inomerico a Demetra, vi ricordo che non vi leggo tutti quanti le puntate precedenti, e parto dal pezzetto che vengo a commentare. Gli inomerici vengono venduti, se vanno in qualsiasi libreria, esistono anche dei tascabili, io qui in mano il tascabile della burra. Il testo invece l'ho preso dalle regioni misteriche, edito da Valla, cioè quello che vado a commentare, la traduzione di Lorenzo Valla. Però costa parecchio come soldi, anche perché io non so i prezzi, perché tanto me li compro a mia moglie, e dopo mi cancella i prezzi, perché non so neanche i prezzi. Anche questo veramente mi ha regalato. Però questo, in inomerici, è edizione burra, con un testo greco a fronte, e comunque è un libretto che si compra per pochi euro, insomma tutto sommato, e che si può leggere tranquillamente. Pertanto non vi faccio il assunto del fondato precedente, ma solo il commento di oggi. Un'altra cosa, aggiungo, io faccio il commento dal punto di vista della stregoneria, cioè mettendo in luce le cose che in questo momento a me mi interessano. Ma il commento agli inomerici, o comunque a tutto quello che è il mito, è un commento circolare. Nel senso che si dovrebbero fare almeno 500 commenti oltre a quello che faccio io, cioè non è così semplice. Io do un commento tutto particolare perché ho degli intenti e do delle interpretazioni relative alla costruzione della religione pagana politeista. Però ricordatevi che essendo circolare quello che è l'insegnamento del mito, rappresenta sia condizioni emozionali, sia condizioni psichiche, sia condizioni sociali, sia condizioni economiche, sia condizioni di rappresentazione dell'uomo e del mondo. E di tutte queste io ve ne do solo una minima parte, però faccio il mio meglio, insomma. Bello Francesco, quante interpretazioni puoi dare? Un esempio del mito? Non sono mai finite perché il mito essendo dinamico sicuramente ne offrirà ulteriori, perciò non esiste una sola interpretazione e non esiste una sola evoluzione del mito. Bene, andiamo. Su via, dice Lino Americo, quello che commentiamo oggi, su via, tutti gli dèi che abitano nel dimore dell'Olimpo vi concedono legittimi sposi e di generare figli come gli sperano i genitori. Così voi, ricordo che è Demetra che sta parlando alle ragazze, alle figlie di Celeo. Così voi abbiate pietà di me, fanciulle, e siate mie amiche, care figlie. In quale casa potrei andare? Di quale uomo e quale donna sì che io compia per loro, volonterosa, i lavori che si addicono ad una donna attempata? Tenendo fra le braccia un bambino appena nato, io potrei allevarlo premurosamente e avrei cura della casa e preparerei nell'intimo delle camere ben costruite il letto dei signori e addestrerei al lavoro le donne. Questo è il pezzo che andiamo a commentare oggi. Mettersi al servizio per alimentare il proprio potere di essere. È un insegnamento fondamentale per ogni iniziato, è una questione di vita o di morte, dove per vita e morte si intende il proseguimento del processo soggettivo di trasformazione o la cessazione dello stesso. L'iniziato o il Dio hanno il potere della consapevolezza e della conoscenza, al di là dei mezzi che possono procurarsi per intervenire nell'oggettività, la lucidità che hanno raggiunto nella possibilità di intervento è tale che è sufficiente una condizione oggettiva favorevole per dominare la situazione. In questo caso è la Dea che potrebbe avere il sopravvento facilmente sulle ragazze e che rinuncia a prevalere per mettersi al servizio. Si mette al servizio non come gesto di umile sottomissione, ma come colei che offre dei servizi con diligenza e impegno. Non troverete mai nessuna parola di sottomissione emessa dalla Dea, non troverete ricerca di compassione. La Dea estende un vero e proprio curriculum di quanto è in grado di fare e di offrire. Nulla di divino, ma tutte prerogative in una persona che ha accumulato esperienza. Chiedo qualche cosa e offro qualcosa. Sono in grado di fare questi lavori. Ho esperienza e le sue parole certificano la sua esperienza. Alle ragazze non dice per favore aiutatemi. Alle ragazze dice siate mie amiche. Io Dea ho iniziato, ho necessità della vostra amicizia. Io donna anziana ho necessità della vostra amicizia. Come suonano strane le parole della Dea. Eppure ella ha la necessità di quell'amicizia. Eppure ella è manifestata da ogni essere che esiste nell'universo. Suonano strane le parole della Dea. Specie per il fatto che noi siamo abituati a un ben diverso tipo di amicizia. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando. Vangelo di Giovanni. Il Gesù dei Cristiani dice Voi sarete miei amici se obbedirete a quello che io vi dico di fare. Viviamo in un insieme sociale che impone l'amicizia come metodo di sottomissione delle persone. E si è perso il senso del piacere della vicinanza fisica ed emozionale delle persone. La Dea è questo che chiede alle figlie, dice Leo. Cosa che non è in grado di fare nessun dio padrone monoteista. Non lo può fare un prete cattolico, né un prete ebreo o musulmano. Ma lo può fare l'iniziato ai misteri di Eleusi. Per il quale è importante un camminare assieme per affrontare la vita. E non un impadronirsi di esseri umani da sottomettere. La pietà che chiede la Dea è la pietassa delle antiche religioni. La Dea chiede attenzione per sé. Chiedere attenzione per sé significa Potete aiutarmi a trovare la casa nella quale posso lavorare e vivere? Che non ha nulla del pietismo a cui siamo abituati educazionalmente a pensare. Ma è l'attenzione per il mondo e gli enti che lo abitano e che ci circondano. Quando uno di questi enti si presenta Noi gli chiediamo pietassa, gli dedichiamo pietassa, gli dedichiamo la nostra attenzione. Ma gli diciamo come deve comportarsi. Non gli chiediamo se è portatore di gioia o di indigni. Non gli chiediamo se è portatore di gloria o di inganno. Lo accettiamo per come si presenta. E per come si presenta gli dedichiamo la nostra attenzione in base ai nostri intenti. Ed ora parliamo dell'augurio che la Dea fa alle ragazze. Auguro loro che abbiate la migliore condizione familiare possibile. E auguro loro di avere figli come i genitori desiderano. Nell'augurio della Dea non c'è l'imposizione ad una morale coercitiva. Non c'è la richiesta di obbedire o sottomettersi a dei doveri. C'è l'augurio delle migliori condizioni possibili di vita e il raggiungimento degli obiettivi e dei desideri di loro. Con un amico si cammina a fianco per brevi o lunghi tratti e gli si augura che riescano i suoi obiettivi e i suoi intenti. Se poi i suoi obiettivi e i suoi intenti sono anche i nostri obiettivi e i nostri intenti, l'auguro che li facciamo è anche l'augurio che facciamo noi stessi. C'è solo servilismo laddove qualcuno obbedisce ad un comando e suona a beffardo chiamare chi è costretto ad obbedire amico. E vi ricordo che il pazzo di Nazareth chiama amico solo chi lo obbedisce. L'altro lo chiama Satana. Fate un po' voi. E questo è l'esempio che ci arriva da Demetra. Demetra è praticamente una divinità talmente grande che è superiore a Zeus in quanto Demetra va fuori dall'essere terra, cioè attraversa tutte le consapevolezze dell'universo. Se per ogni pianeta potremmo dire che c'è un Zeus per ogni pianeta ed è un Zeus soggettivo diverso da un Zeus all'altro, Demetra invece è una tensione che attraversa tutti gli enti dell'universo ed è sempre la stessa Dea, la stessa Divinità. Per cui, pensando in maniera della stregoneria, Demetra sarebbe infinitamente più grande di Zeus, solo che chiaramente nel mito dobbiamo restringere un pochino le cose perché sennò sforiamo un po' troppo. Ebbene, la più grande potenza dell'universo, che è la crescita, l'espansione, il divenire, la trasformazione, fa questo tipo di discorso alle ragazze che incontrano sulle loro strade per le sue necessità. Provate voi a vedere il Dio padrone dei cristiani o il pazzo di Nazareth a fare questo tipo di discorsi e la roba da fuori di testa. Sì, no, io voglio partire da alcuni accenni di queste poche frasi dell'inno di numerico a Demetra che, per esempio, si può tracciare appunto un paragone o anche un percorso comune. Quando si parla da una parte dice lì di moro è dove vivono gli dèi, nessuno limpo. E poi Demetra dice in quale casa io posso vivere. Cioè, qui si tratta appunto di dare una dimostrazione concreta in cui il luogo di vita è uguale sia per gli dèi sia che per gli uomini. La divinità, Demetra, nel momento in cui abbandona l'Olimpo, non si pone completamente nell'impossibilità di vivere una comunità. chiede di entrare in una coabitazione, in una casa. Il fatto stesso che si ponga l'accenno sul fatto che gli dèi vivono nelle dimore e che gli uomini vivono nelle dimore e che Demetra si è che una dimora impiega prima di tutto la necessità di un rapporto con altre persone perché le case sono fatte costruite per raccogliere persone, per concentrarle, per unirle, per trovare qualcosa di comune. ma le dimore sono anche una volontà e una capacità delle persone di vivere assieme e di costruire un qualcosa che gli permetta di vivere meglio. Demetra non si pensa totalmente estraneato perché anche quando vaga per il mondo viene ospitata, non fa la solidarietà del tutto. Ha sempre qualcuno che l'accoglie. Il fatto stesso che appunto, Mero Dica parli di dimore degli dèi, significa che esistono degli spazi che sono comuni in cui sia gli dèi sia gli umani vivono assieme. D'altronde, il fatto stesso dice chiaramente se gli dèi hanno bisogno di una dimora, anche gli uomini hanno bisogno di una dimora. E queste dimore si possono trovare, possono vivere. Al contrario, nel monoteismo, quando mai si parla di dimora? Quando mai si parla appunto di un'abitazione in cui si possa vivere? È uno dei motivi per cui noi consideriamo gli enti del mondo, cioè le tensioni e gli altri esseri della natura uguali a noi. Cioè, in realtà dimoriamo tutti sulla faccia di questa terra, capisci? E siamo divenuti assieme. Per cui il mito racchiude anche questo, no? Cioè, il divenire assieme è tutto. Per cui si parla di uomini, in realtà, in realtà, e non in realtà, perché il mito lo giochiamo. Cioè, il mito è infinito nell'interpretazione. Qui stiamo parlando, dice Leo, che è l'essere primordiale che sta uscendo dal brodo primordiale. Cioè, qui stiamo assistendo alla forza titanica del divenire della vita. D'accordo? Rappresentato come Eleusi, rappresentato come persona, rappresentato come il fondatore di Eleusi, o come un grande re. Ma in realtà stiamo parlando del divenire della vita. Dopo andremo avanti con i misteri di Eleusi. Andremo a vedere che l'iniziato, in realtà, conosce le trasformazioni della vita. Quando viene presentata la spiga, nella spiga è il potere dell'universo. Cioè, quando viene presentata la spiga, in realtà, questo è il divenire, la crescita. Era un seme, era Persephone, e si è trasformato nella spiga. Cioè, che è, in realtà, il segreto di Eleusi, la crescita, il divenire, la trasformazione. Se parliamo anche, appunto, di luoghi, parliamo, cioè, di dimore, parliamo di luoghi. Cioè, di posti che possono essere anche descritti, che possono essere circoscritti e sono concreti. Significa anche che siamo capaci di trarre dei confini, dei limiti, che siamo capaci di distinguere, di collocarli, che hanno una dimensione spaziale, che è percorribile. Abbiamo uno spazio che è racchiuso, ma che è all'interno di un altro spazio che è il mondo. Ma significa che questo mondo è molteplice. Perché, appunto, significa che il mondo non è unico, ma è molteplice, in quanto esistono infinite dimore. Se esistono infinite dimore, noi possiamo anche percorrele, visitarle, conoscerle. Ma dobbiamo anche imparare a trasmettere questa conoscenza. E, d'altronde, Eleusi sorge anche per questo, per dire, in queste infinite dimore che noi percorriamo, noi abbiamo una conoscenza, una geografia, abbiamo un percorso, abbiamo una strada, abbiamo una via. E questa via, noi riusciamo a trasmetterla. Sappiamo, la diamo agli iniziati, gli iniziati la conoscono e la possono utilizzare. Nel momento in cui l'hanno appresa, la possono utilizzare. Non hanno il bisogno di, per tutta la vita, di accettare passivamente di attendere qualcosa. hanno uno strumento che gli permette di percorrere l'altro dimore del mondo. E questo veramente nel mito è sempre presente. Quello del viaggio, del percorso, della conoscenza, della conoscenza che viene acquisita dal singolo e che il singolo è capace di trasmettere. E Eleusi inizia le persone, non perché queste accettano una devozione o una sottomissione, le inizia perché gli dà qualcosa che gli permette di comprendere il mondo, di riconoscere queste dimore e gli permette anche poi di trasmetterle. Perché il mito è anche trasmissione, è anche ricordare, è anche riportare, è anche ricollegare e mantenere queste informazioni. Poi alla volta parleremo sempre più a fondo dei miti e di chi cos'erano in realtà. Perché c'è tutta una scoperta, perché succede così, quando cominci poi a trovare il filone, comincia a scavare nel filone e non ti fermi più? Perché in effetti quello che sto adesso vedendo è che dovrei riprendermi in mano tutta la filosofia pressocratica, i frammenti che sono restati, perché dovrei rivisitare tutta quella che è la mia interpretazione della filosofia pressocratica, perché in realtà la filosofia pressocratica non è altro che un momento di passaggio fra il mito, la concezione mitica, il modo mitico di vedere la vita, l'esistenza, con il modo filosofico, il modo speculativo. I frammenti ci sono rimasti e dovrei rivisitare adesso tutto quanto dal nuovo punto di vista. Cioè, in pratica, quando si trova un filone, non si finisce più di acquisire o di analizzare. Sì, ma anche perché appunto l'iniziazione non è il fine. No. È l'inizio di qualcosa. È la continuazione e di conseguenza aggiunge nuove cose. cioè nel senso che non trasforma completamente le cose ma aggiunge nuove possibilità, nuove prospettive. Ma queste prospettive non sono limitate, non sono enumerabili, non sono quantificabili. Perché proprio l'iniziato aggiunge una nuova prospettiva e questa nuova prospettiva può essere trasmessa. D'altronde, il mito è sempre identificazione, ma non è limitazione. Identifica un obiettivo, un percorso, ma su questo percorso a ogni persona che lo percorre aggiunge un qualcosa. Perciò quando tu intraprendi questo percorso depositi qualcosa, qualcosa lo raccogli e qualcosa lo trasformi. Ma questa è sempre una maggiore ricchezza, possibilità che tu dai. D'altronde, questo è l'insegnamento che ci viene dalla vita. La vita è fatta così. Cioè la vita non è descrivibile, non è limitabile in poche parole. La vita non può essere raccontata, la vita può solo essere vissuta. non puoi dire agli altri come sarà la loro resistenza, puoi dire agli altri che devono vivere, puoi dire cosa incontreranno, ma non puoi sottrarli a quell'incontro, non puoi sottrarli a quella conoscenza, non puoi sottrarli a quell'esperienza. Potrai essere del ruolo d'aiuto per meglio comprendere quell'esperienza, ma quell'esperienza la devono fare. D'altronde non esistono verità date a priori, non esiste una verità assoluta e non è sufficiente l'enunciazione di una cosa, una cosa deve essere sperimentata. e il mito dice che dovrai sempre sperimentare. Il viaggio di Demetra dà anche questo senso. Voi chiediamo il viaggio No, no, sto guardando, fai fisso il discorso. No, ma se vuoi diamo anche via le telefonate visto che siamo a meno un quarto dalla fine della trasmissione. 049 700 700 e 049 700 83 Pronto? Velocissimo, mi raccomando. Io penso che non abbia mai portato male come questa volta. Ciao. Ciao. Tutto quello che è la vita dell'uomo, la vita che noi facciamo in realtà è magia, è trasformazione, è relazione fra noi e il mondo e tutto questo ci porta a trasformarci, ci porta a divenire, ci porta a fondere le nostre tensioni, le nostre pulsioni con le tensioni e le pulsioni del mondo e questo è il paganesimo, questa è la stregoneria, questa è la capacità della magia, il segreto stesso della magia, cioè la capacità dell'uomo di vedere la sua trasformazione continua. Certo, noi indichiamo tutta una serie di modi per andare alla trasformazione, però in realtà la trasformazione è opera di magia dei soggetti, degli individui. Sì, noi come paganesimo non abbiamo mai un fine, abbiamo sempre un continuo percorro, abbiamo una continua via, abbiamo continue esperienze e non abbiamo una limitazione di queste esperienze, queste esperienze sono continue, sono varie, proseguono sempre, è proprio la necessità di percorrere, noi non abbiamo uno scopo finalistico, non abbiamo un giudizio universale, non abbiamo un vallo di essere superato, noi abbiamo la vita che deve essere percorsa ed è soltanto vivendo questo che noi facciamo, anche le iniziazioni nella mitologia servono a questo, servono a dire alle persone avete degli strumenti, avete delle informazioni, avete uno stimolo per comprendere e queste non sono mai come le consacrazioni del monoteismo in cui le persone vengono marchiate, vengono limitate e vengono costrette all'interno di questa realtà, cioè esiste proprio un qualcosa che è ben diverso, che è più profondo ed è sempre la sensibilità verso la vita e ti ripetiamolo, il mito insegna che si deve essere sensibili verso la vita ma non insegna alle persone come devono essere sensibili, ognuno sviluppa la sua sensibilità, ognuno la deve sviluppare, ognuno ha la sua esperienza. Sono Gabriella Di Galliera. Ciao, dimmi. Allora, pur essendo agli antipodi di quello che stai dicendo, io una cosa sono d'accordo con te. Quando tu parli dei testi pressocratici, no? Sì. Tu hai detto una cosa adesso che è logica, perché devo riprendermeli in mano per rileggerli, no? Ma se tu li hai letti, che ne so, cinque, dieci anni fa, cinque, dieci anni fa tu non avevi l'evoluzione che hai adesso. Certo. E allora ti puoi reinterpretare. E questa è la la specificità della filosofia. Sì. Pur essendo poi contraria a quello che tu dici, perché io credo fermamente in Dio. Ah, beh. problemi tuoi. Ci rispettiamo vicino. Va bene. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il problema è l'interpretazione il problema dell'interpretazione dei testi pressocratici è un problema che c'è sempre stato, cioè non è che sia che si presenti adesso. Noi abbiamo già delle interpretazioni, perché tutti i frammenti che esistono nei testi pressocratici sono all'interno già di commentari, cioè li abbiamo in Aristotele, abbiamo in Platone, cioè quei frammenti in realtà sono sparsi qua e là. Per cui esiste già da Aristotele e da Platone una serie di commenti, di affermazioni sui testi pressocratici che ci danno già una visione di quello che è il pensiero filosofico. Qual è il problema più grosso che si pone? Che c'è stata una rottura prima di Platone, prima di Aristote, io la colloco intorno a 600, però è arbitraria, cioè nel senso che lo faccio così per indicazione, c'è stata una rottura tale che neanche Platone, neanche Aristotele avevano effettivamente quella che era la concezione completa di quello che erano i frammenti pressocratici. Non di tutti i frammenti, molte cose sicuramente, però tutta una serie di legamenti al mito che c'erano nei pressocratici più antichi tipo Talete, tipo Annassimene, Annassimandro, tipo Orfeo, Museo, erano già sfuggiti dal controllo di Aristotele e di Platone, per cui anche loro si interpretano quello che è l'antico e ci danno anche delle visioni più approfondite, perché loro avevano i testi completi, non avevano i pochi frammenti che avevamo noi, per cui loro danno quella visione, però esistono tutta una serie di contraddizioni, anche sugli archè, anche sull'interpretazione delle cose, che secondo me esistono delle cose che ci sfuggono ancora e vedrò, quando vedrò vedrò. Nel mito molte cose sfuggono con parole perché il mito non è mai rivelazione, non è mai verità, non è mai enunciazione di un principio immutabile. Cioè, adesso, tanto per fare un discorso, quando Eraclito parla del fuoco, noi sappiamo che non parla del fuoco fisico, ma che parla del fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Ma quando Talete, adesso non vorrei fregare perché dopo mi confondo, parla dell'acqua, parla dell'acqua fisica o parla invece di una visione che ha, che definisce come acqua? Cioè, questi speculatori pressocratici, quando parlano di infinito, per esempio, cosa intendono per infinito? Capisci? È questo che dobbiamo riuscire a comprendere, non tanto il fatto che loro parlassero di infinito, parlassero di acqua, parlassero di fuoco come degli archè, ma cosa loro avevano nella testa mentre parlavano questo e dove andavano a parare mentre usavano questo tipo di vocabolario? Perché certo, tutti sono in grado di tradurre acqua, quel vocabolo significa acqua, indubbiamente, ma cosa c'era nella testa del filosofo quando ha usato quel vocabolo in quella situazione? È questo che... Sì, purtroppo, sai, il monoteismo, certe parole le ha rese zombie, cioè le ha prese, le ha suotate, le ha messo dentro altri significati, le ha finalizzati, ha dato un solo significato, è andato in una sola direzione, in realtà, nell'antichità, questo problema non si poneva, non c'era, nel senso che non c'era bisogno di canalizzare tutto per la salvezza, per l'altro mondo, per la volontà di Dio. È una continua ricerca e di conseguenza le parole acquisivano anche delle trasformazioni date dalla loro capacità di avere esperienza. Tra i testi più antichi che sono stati trovati, adesso non so quanto recentemente, non so, dovrei guardarsi i testi, ci sono le laminette orfiche, le laminette orfiche danno una visione del mondo orfico, della filosofia orfica, che praticamente era ininterpretabile fino a poco tempo fa. Adesso si comincia a capire un po' di più, però fino a poco tempo fa era assolutamente ininterpretabile. Io non so, non mi ricordo quando sono state trovate, in che epoca esatta e in che epoca sono state tradotte, però erano ininterpretabile. Tant'è che la filosofia orfica, quando si parla della filosofia orfica si fa poco accenno a queste laminette orfiche che sono oltretutto originali fra le altre cose, mentre si fa più accenno all'orfismo come ne parlano i filosofi classici. Ma io ho letto alcune laminette orfiche e effettivamente ci vogliono due palle tante per riuscire a capire. Adesso ho usato un termine un po' così, ma per dire che occorre un certo modo di vedere le cose, c'è una certa iniziazione per riuscire a cogliere l'aspetto. I nostri antichi, d'accordo, Eraclito ci dice che il sole era grande come un catino nel cielo, però a Eraclito non gli fregava niente di misurare la grandezza del sole, cioè non gli fregava assolutamente niente. Gli bastava sapere che il sole era un oggetto in se stesso che si muoveva nel cielo, per lui era sufficiente questo. Però non erano stupidi i nostri antichi per non sapere che le stelle e il sole erano la stessa cosa, cioè non erano scemi. Non gli fregava niente a mettere a posto il discorso il sole non è altro che una stella nana. Non gli fregava assolutamente niente di questo per la loro vita. Però non erano così stupido a non sapere che il sole e le stelle erano la stessa cosa. Si si beh basta postare che ad esempio molte scoperte scientifiche o molti concetti proprio scientifici appartenevano già alle culture antiche tipo che la terra fosse rotonda era una cosa normalissima. Il contemporaneo di Archimede che dopo venne fatto fuori da Archimede per questioni politiche che misurò il diametro della terra o la circonferenza della terra e sbagliò di pochissimo e sbagliò di pochissimo aveva fatto una scoperta che oggi diremmo sensazionale però non sapeva che farsene cioè è inutile che uno scopri l'atomo come fece Democrito cioè Democrito ebbe l'intuizione dell'atomo però non sapeva che farsene cioè sapeva che farsene per definire la materia per definirla infinitamente picco per la speculazione filosofica ma dal punto di vista pratico finché non si hanno inventato le bombe atomiche della struttura dell'atomo non sapevano che farsene Francesco la torna estervia era una volontà di conoscenza cioè quello che era fondamentale la loro volontà era quella di comprendere la realtà che gli era attorno perché la realtà che gli era attorno aveva un significato cioè che doveva dare delle informazioni dare delle notizie e loro potevano interagire perché se tu pensi anche alla capacità che hanno avuto ad esempio per milioni di anni ad esempio la selezione delle specie ma non veniva fatta in laboratorio con gli esperimenti genetici con i test cioè esisteva una sensibilità individuale verso quelle specie esisteva un contatto psichico un ponte un collegamento che la percezione era immediata noi abbiamo un'affermazione nel Vangelo di Tommaso Didimo che dice praticamente questo alla domanda che fa una stante la circoncisione è necessaria oppure no è stato che risponde se la circoncisione fosse stata necessaria noi saremmo nati circoncisi cioè praticamente nella risposta c'è già il concetto di evoluzione cioè c'è in tutto il concetto di evoluzionismo cioè quello che a noi è necessario lo avremmo fatto nascendo cioè l'avremmo generato nelle nostre carni nel nostro modo di essere nel nostro modo di rappresentarsi il mondo però non ne fregava niente mettere a posto il concetto di evoluzionismo metterlo in ordine anche perché non c'erano contraddizioni finché non è arrivato il monoteismo quando è arrivata appunto la menzogna del Dio creatore che dal nulla crea il mondo allora lì il problema si è posto di dover definire delle cose esatto si è posto il problema della ragione il problema della scienza il problema della speculazione in modo diverso tutto sommato si sapevano le cose anche prima non è che fosse necessario se voi vi leggete Lucrezio il della natura è a un livello scientifico noi siamo arrivati attorno all'ottocento insomma a fine ottocento per il livello che Lucrezio scrive che era un epicureo in pratica Lucrezio scrive a Roma praticamente nel primo secolo mi sembra e quel testo sul della natura è a livello dell'ottocento a livello scientifico per cui diciamo le cose si sapevano non mi fregava niente è come dire un albero che conosce la forza l'equazione della forza centrifuga non gliene frega niente si può anche arrivarci se vuole speculare su questo ma un albero che se ne fa dell'equazione della forza centrifuga non se ne fa niente bisogna anche riuscire a capire che molte cose appartengono a noi come esseri umani perché noi ne troviamo un'utilità ma altrimenti alla vita l'utilità non gli interessa l'utilità è l'ultima cosa che interessa la vita l'utilitarismo è solo finalizzato nel monoteismo alla salvezza in realtà l'utilitarismo non è mai servito all'esistenza proprio perché le cose vengono fatte per desiderio perché piacciono per scelta ma non perché sono utili l'utilitarismo è una follia proprio dell'economia della salvezza l'economia della salvezza appartiene solo alla pazzia del monoteismo esatto va bene francesco noi siamo verso la fine della trasmissione ricordiamo che marzo il 20 marzo otterremo il rito io spero di avere un giorno di ferie di prendermi in qualsiasi caso viene fatto non riesco a farlo altrimenti ma comunque e poi in aprile continueremo con i dibattiti ricordiamo la stragola ecco io ricordo appunto che domani sera l'amico Silvano otterrà a Paderno del Grappa alla trattoria orchidea che sulla strada che porta appunto da Paderno a Crespano otterrà una conferenza sui veneti e la religiosità degli antichi veneti nel contesto delle popolazioni indoeuropee perciò appunto io do appuntamento domani sera appunto a Paderno del Grappa la trattoria orchidea alle 20.30 e appunto ci sarà l'occasione di parlare appunto di religiosità degli antichi veneti chi ha problemi c'è sempre il numero telefonico è 338 319 7720 per avere maggiori informazioni e chi vuole per il 20 marzo si passa già vivo insomma così bene noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione parto anche subito con la pubblicità beh ricordo che giovedì prossimo Claudio è in ferie perciò ci sediamo soltanto da soli ci sarò io insomma va bene giovedì prossimo tutto Francesco tutto Francesco ok e noi ci sentiamo fra 15 giorni ciao